Ma figuriamoci, Renzi non ha problemi a presentarsi ovunque, ma non è un contrasto. I documenti che sono apparsi sulla stampa ieri non li ha mandati Renzi, sono documenti che derivano da un'inchiesta giornalistica fatta negli Stati Uniti peraltro. Credo che non dobbiamo essere solo noi preoccupati di quello che è emerso, deve essere preoccupato le istituzioni di questo paese. Quindi Conte non deve rispondere a Renzi, Conte deve rispondere alle istituzioni di questo paese.